bene signori bentornati ben ritrovati benvenuti in un nuovo video su destiny 2 e benvenuti in un nuovo video sulle build questo format è una cosa che a me piace particolarmente ve l'avevo già accennato è una cosa che mi diverte creare diverse diverse sinergie diverse build da poter usare e oggi finiamo il nostro primo giro con la terza build da vuoto però questa volta con il titano build da vuoto che per questa stagione saranno quelle più importanti proprio per via della mod che si può mettere sul marchio che è quella appunto della dell'oscurità opprimente che si può mettere naturalmente su tutti i personaggi e che ci permette di fare più danni quindi di debbaffare i nostri boss detto questo non sto qui di nuovo a farvi tutto il discorso sulle armature non sto qui a farvi tutto il discorso sul destiny team manager per crearvi loadout quelle informazioni li potete trovare negli altri miei due video riguardo a le build prima quella dello stregone poi quella del cacciatore sul titano siamo più o meno forse nell'ordine di un mix tra una e l'altra nel senso che in parte abbiamo la capacità di aiutare il team come il cacciatore ma abbiamo una ricarica della super forse anche maggiore rispetto a quella dello stregone anzi quasi sicuramente maggiore comunque veniamo a noi e andiamo dritti al punto siamo con il sentinella quindi classe sotto classe da vuoto ramo di sopra codice del protettore perché perché il ramo di sopra a guardia dell'alba quando l'energia della super è piena crea una cupola indistruttibile per proteggere te i tuoi alleati passare attraverso una guardia dell'alba aumenta temporaneamente il danno delle armi tue e dei tuoi alleati per utilizzare tenere premuto f in questo caso sul pc f se siete sul console dovete tenere premuto naturalmente l1 r1 per fare super e se tenete premuto fate la bolla se non tenete premuto e lo spingete soltanto una volta farete appunto la super normale che siamo abituati sempre a fare perché importante la bolla è importante perché guardia dell'alba è il buff maggiore che si può ottenere in questo momento all'interno del gioco che è di un bel 35 per cento dei danni sapete prima era la torgente di radianza dello stregone che poi è stata nerfata e quindi in questo momento dovrebbe dare soltanto il 25 se non erro e quindi con la bolla avete un 10 per cento in più che è sicuramente utile da avere per tutte le cose difficili da fare tra i raid i cala la notte eccetera eccetera però diciamo che la pil si si incentra nella bolla e l'obiettivo di questa build è fare più bolle possibili averla sempre disponibile perché sono importanti da avere per il team però useremo un escamotage per aumentare la velocità di rigenerazione della super finiamo di vedere i perk però che ha il titano di ramo di sopra abbiamo forza trascinante le uccisioni con il corpo a corpo ripristinano la tua salute e quella degli alleati vicini purtroppo dico purtroppo questo perk ha un raggio molto stretto quindi i vostri compagni di squadra devono essere molto vicini per poter prendere questo perk però se siete appunto vicini è utilissimo da utilizzare per i vostri compagni che magari sono in difficoltà soprattutto perché con questa build noi saremo sempre e quasi sempre a dare cazzotti soprattutto ai nemici un po più deboli assalto difensivo sconfigge un nemico con questa abilità corpo a corpo per creare una protezione aggiuntiva intorno a te e i tuoi alleati i colpi di grazia forniscono energia corpo a corpo quando questa protezione aggiuntiva è attiva importante sovrascudo in più per noi per i nostri alleati sempre in un raggio molto corto e in più i colpi di grazia forniscono energia corpo a corpo quando questa protezione aggiuntiva è attiva quindi se fate un ulteriore kill quando avete questa protezione appunto avete questo sovrascudo il vostro corpo a corpo si ricaricherà molto più velocemente che poi è l'obiettivo di questa build ultimo perk cambio sorte la protezione aggiuntiva di assalto difensivo cioè questo dura di più e aumenta i danni del corpo a corpo e la velocità di ricarica quindi come vedete già la build è praticamente c'è già soltanto il ramo sopra è praticamente tutta incentrata sui corpo a corpo e quindi dobbiamo cercare di andare ad ottimizzare questa cosa con i pezzi che adesso andiamo a scegliere allora in primo luogo io partirei dalle armature così poi capite anche la scelta delle armi e come armature esotica abbiamo gli spallacci zanna della sventura a cosa servono principalmente soltanto per il primo perk cioè le uccisioni corpo a corpo da vuoto quindi appunto sotto classe che stiamo usando forniscono energia della super questo perk qui è fortissimo raga fortissimo ogni uccisione da vuoto con il corpo a corpo quindi attenzione dovete far attenzione che l'abilità del corpo a corpo sia carica perché altrimenti non ve lo conta però se riuscite a fare una kill con questo pezzo esotico praticamente riuscite a guadagnare quasi un quarto di energia della super praticamente con quattro cazzotti voi avete l'energia piena e grazie ai perk che abbiamo appena visto nella sotto classe ricaricare i colpi corpo a corpo sarà molto semplice ma non solo non solo perché in questa build noi abbiamo applica noi io insomma sì noi diciamo noi abbiamo applicato il monte carlo monte carlo nuova esotica che si prende soltanto tramite il dlc quindi se avete shadow keep potete prenderla altrimenti no monte carlo vi ricordo è un drop random quindi potete ottenerlo facendo qualsiasi tipo di attività cosa fa il monte carlo metodo monte carlo infliggere danni con quest'arma riduce il recupero del corpo a corpo quindi soltanto facendo danni guadagnate energia per recuperare il corpo a corpo e fornisce una possibilità di ricaricare completamente l'abilità corpo a corpo dopo ogni uccisione quindi la possibilità di ricaricare è molto alta non è non lo so sinceramente bisognerebbe fare un calcolo preciso però vi posso assicurare che è abbastanza alta e quindi vi permette veramente di avere la fortuna dopo aver ucciso magari qualche mob rosso in giro per la mappa di ricaricare subito il vostro corpo a corpo e di continuare a dare i pugni per ricaricare la super in ogni caso anche soltanto facendo danni avrete la possibilità di ricaricare il corpo a corpo molto velocemente quindi di continuare a dare pugni per ricaricare di nuovo la super in più il monte carlo anche catena di markov quest'arma conferisce un aumento ai danni dopo ogni uccisione effettuata con essa e dopo le uccisioni corpo a corpo le uccisioni corpo a corpo generano munizioni per quest'arma quindi vedete che il monte carlo si matcha perfettamente con una build incentrata sui corpo a corpo in più vediamo un attimo che cos'altro possiamo scegliere all'interno delle nostre armature partiamo dal casco casco da vuoto dove come potete vedere la mod che sto usando è una modifica per la forza modifica per la forza che ci aiuta parecchio per recuperare il corpo a corpo quando magari non abbiamo nemici intorno quando non riusciamo a fare kill eccetera eccetera come sempre qui bisogna essere un po più accorti riguardo alle armature e cercare di trovare delle armature che già di base partono con una buona percentuale di forza per esempio io sul petto questo lavoro qui non lo posso fare perché come vedete la forza qui ce l'avevo a 2 e quindi con la mod sono arrivato a 12 però calcolate appunto che tenete a mente questa cosa qui soprattutto se volete raggiungere il cap in questo momento io sono al 7 nelle altre build vi avevo fatto vedere addirittura cose fino al 90 ma si può arrivare anche al 100 dipende dipende da quello che trovate comunque come potete vedere su tutti i pezzi la modifica è quella relativa alla forza tranne il patto ma ci arriviamo tra un secondo sul casco ho messo cercatore di munizione per lancia granate così come ho messo la riserva sul petto e il saccheggiatore sulle gambe proprio perché in questa build mi serve comunque in ogni caso qualcosa per fare danno ai boss mi serve e il guendigo fa al caso nostro calcolando che faremo diverse bolle insomma ci saranno diverse sfere di luce all'interno del nostro campo di battaglia con il guendigo e con i suoi sei colpi è un'arma veramente forte per fare dps quindi è il caso di averne almeno una per fare un po di danno ai boss questo perché come secondaria stiamo usando un fucile a pompa fucile a pompa perché perché sul fucile a pompa abbiamo gancio letale con gancio letale colpire l'emico con ogni pallettone di un colpo aumenta i danni dal corpo a corpo per un breve periodo di tempo questo shotgun è importantissimo per le ulteriori build che andremo a fare su diversi personaggi come il cacciatore e anche il titano perché è il perk fondamentale sono shotgun fondamentali per poi fare le build one to punch eccetera eccetera con i peregrini insomma cose che già si sono viste in giro ma che vi farò vedere soltanto in un secondo momento e siccome noi saremo sempre lì a dare pugni è importante secondo me avere anche se non abbiamo poi una build incentrata completamente sul danno per il corpo a corpo averlo ci aiuta anche a buttare giù magari i maggiori un colpo con lo shotgun e poi un cazzotto ci permetterà di buttare giù facilmente e non vi dico i boss ma quantomeno i maggiori e questo ci aiuta tantissimo nella pulizia del campo di battaglia e come sempre nel recupero della nostra super quindi casco braccia petto gambe importante il patto il patto anziché essere a vuoto dovrà essere ad arco e dovrete spenderci un pochino perché deve arrivare almeno ad energia 8 perché energia 8 perché avremo bisogno di due mod importanti qui non ho messo la mod della forza perché purtroppo non si riesce a mettere però sicuramente oscurità opprimente deve essere la nostra prima scelta perché in tutto questo noi dovremmo naturalmente avere il compito di debuffare i nostri nemici che siano boss maggiori o quello che è con oscurità opprimente causare danni con una granata del vuoto aggiunge un effetto che indebolisce i nemici suggerisco l'uso della granata magnetica perché è molto più semplice da applicare piuttosto che quella muro o la granata soppressiva o la granata magnetica anche se magari missate un pochino il lancio diciamo che potrebbe andare a colpire lo stesso nemico quindi si attacca e in più fa due esplosioni quindi è molto molto diciamo semplice da usare quindi oscurità opprimente deve esserci perché comunque siamo in una classe da vuoto dobbiamo sia fare la bolla ma sia debbaffare i nemici per quello in questa build noi abbiamo praticamente tutto quello che ci serve per affrontare qualsiasi tipo di attività in più importante da avere mani in alto mani in alto è una mod che si può trovare soltanto sul marchio ad arco quindi non potete metterla su quello solare o quello a vuoto e ottiene energia bonus per la super uccidendo nemici con i corpo a corpo quindi quel quarto che vi ho detto che si prende soltanto grazie agli spallacci con questa mod mani in alto verrà ancora aumentato quindi magari nel durante mettete caso che non riuscite a fare quattro colpi di fila e c'è un po di tempo tra un colpo e l'altro magari ve ne serviranno soltanto tre di pugni per ricaricare la super e quindi se riuscite a fare tutto ci sono abbastanza i nemici da uccidere appunto con i pugni sarete certi che potete riempire di bolle il vostro campo di battaglia questa è una build veramente ottima per quanto riguarda sia la rigenerazione della super sia la sua utilità della rigenerazione perché comunque la bolla è strautile e sia anche per pulire perché comunque il vostro pugno sarà abbastanza forte da uccidere i rossi sarà abbastanza forte da uccidere i maggiori se usate il giancio letale quindi il one to punch e se siete vicini ai vostri compagni darà loro salute sovrascudo velocità di ricarica e danni naturalmente se avete la bolla quindi di tutte quelle che vi ho fatto vedere quindi passiamo dallo stregone che poi vabbè ha la bomba nuova e si incentra principalmente solo sulla granata il cacciatore da vuoto si ha la freccia quindi ha un buon dps però anche lì siamo di fronte ad una build che permette soltanto il debuff dei nemici e aiuta grazie all'invisibilità il team qui abbiamo il tutto compreso abbiamo la bolla che possiamo ricaricare velocissimo abbiamo la granata che ci permette di debuffare nemici e abbiamo anche un discreto danno grazie ai lanciacranate grazie al one to punch grazie al monte carlo che comunque è una buonissima arma per pulire non è il top ma è buonissima e quindi di questa cioè di tutte quelle da vuoto io penso che quella del titano fatta in questo modo sia quella più utile quella più versatile da avere in tutti i casi dal raid fino al cala fino alle pattuglie agli assalti eccetera eccetera naturalmente il pvp è un discorso a parte se volete c'è un'alternativa soprattutto se non avete il monte carlo e l'alternativa qui è andare a sostituire il monte carlo con un piccolo passo che è lo shotgun della luna che ha anche questo gancio letale naturalmente se volete non è necessario ma se volete naturalmente cercate di ottenerlo con gancio letale e nel secondo slot il classico asceta però almeno cerchiamo di metterci i proiettili anti barriera e a questo punto dobbiamo andare a fare una piccola modifica sul torace e andare a sostituire la riserva per il lanciacranate con ricchezza balistica cioè fornisce energia per il corpo a corpo dopo i colpi di grazia con armi perforanti o quando un membro della squadra neutralizza l'abilità di un campione barriera in questo modo ricarichiamo il corpo a corpo ogni volta che andiamo a fare una kill con l'asceta che è appunto la nostra arma con i proiettili anti barriera qui potete sostituire l'asceta con anche un canone portatile o qualsiasi altro fucile automatico basta che abbiate i proiettili anti barriera naturalmente questo è un pelino sotto rispetto a la ricarica che potete ottenere grazie al monte carlo perché se avete la fortuna di fare una kill il monte carlo ve la rigenera istantaneamente quindi è decisamente molto meglio però un'alternativa ci deve essere tenete a mente appunto questa variante quindi detto questo come vi dicevo questa è sicuramente delle tre la build più forte ma come sempre nei commenti qui sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate come vi dicevo nei prossimi giorni vedremo anche altre varianti di altre build di altri elementi sui vari personaggi quindi iscrivetevi se volete vedere anche quelle altre versioni io vi ricordo che poi queste cose qui noi le vediamo in anteprima prima su twitch e poi qui sul canale quindi vi ricordo di seguirmi anche lì trovate il link in descrizione io vi ringrazio di aver guardato il video spero come sempre che vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima ciao ne